La clinica di San Pietro, ostetricia e ginecologia al collasso. Questa mattina erano almeno una quindicina le pazienti in attesa del ricovero, tutte stipate all'interno di una stanzetta, aspettando che si liberassero i letti. Questa è la situazione che si sta verificando in città in seguito alla chiusura del policlinico, la cui vertenza sembra ormai essersi arenata. Dopo aver ottenuto la convenzione ambulatoriale per la quale sono stati abbassati i tetti, sono iniziate le turnazioni per il personale, circa 200 dipendenti che stanno aspettando notizie sul futuro all'interno della clinica privata, dove sono state assolte tutte le indicazioni in materia di sicurezza. Intanto è di almeno due settimane l'udienza del giudice che si sarebbe dovuto esprimere sulle altre convenzioni e che includono anche quella di ostetricia e ginecologia, ormai inoperativa dal novembre scorso. Ad aggravare la situazione le piogge che hanno fatto scoppiare le fogne che servono la prima palazzina delle cliniche di San Pietro, una situazione ormai ingestibile. Dal terzo piano le pazienti sono state trasferite al quinto piano, una condizione da terzo mondo che non può che aggravarsi col passare del tempo, a discapito della salute dei cittadini del Sassarese.